5 decessi e 25 nuovi contagi in Irpini e casi di coronavirus. Ora sono 124 e le persone decedute salgono a 10. Tra giovedì e ieri sono morte 5 persone. Il sacerdote di Ariano, Don Antonio di Stasio, un 89enne di Flumeri, un 86enne di Greci, un 84enne di Bonito, mentre nelle ore precedenti era morta a Caserta un ottantenne di Villanova del Battista. 124 contagiati, la metà residenti ad Ariano, mentre la mappa dei comuni interessati continua ad allargarsi. Questa la situazione attuale. Ariano, 62 contagiati, 5 vittime di cui un originario di Greci, Avellino 8, Bagnoli-Irpino 1, ma domiciliato a Napoli, Bonito, una vittima, Castelbaronia 1, Cesinali 1, Chiusano 4, Forino 2, 6 casi di contagio a Flumeri con una vittima, 2 a Gesualdo, Grotta Minarda e Lauro, 1 a Melito-Irpino, si tratta di una persona domiciliata nel comune di Bonito, Mercogliano 4, Montecalvo 1, Monteforte 3 casi, Montefredane 1, Mirabella 4 casi e una vittima, San Martino-Ballecaudina 1 caso, San Michele di Serino 1, Sant'Angelo dei Lombardi e Samignano 2, Solofra 3, Scampitella 2, Taurasi 1, Valle Saccarda 1, Venticano 3 casi e una vittima, Villanova del Battista 2 casi ed una vittima.